Grazie a tutti. Quest'oggi in apertura al nostro telegiornale l'emergenza coronavirus. Vincenzo De Luca, il presidente della Campania, auspica che a breve la regione torni a far parte della zona a rischio epidemiologico bianca, che è quella più moderata. La linea del rigore funziona, dice il governatore. Credo che ci stiamo avviando ormai decisamente verso la fuoriuscita dall'epidemia e cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Credo che dopo la prossima settimana la regione potrà tornare in zona bianca. Non cambia granché questo cambio di colori, ma cambia un po' dal punto di vista psicologico. La Campania si sta incamminando verso la fuoriuscita dall'epidemia di covid, come ha detto il presidente della regione Vincenzo De Luca nel corso della sua solita informativa. La situazione va rapidamente migliorando. Credo che ci stiamo avviando decisamente verso la fuoriuscita dall'epidemia e cominciamo a imboccare la strada di un ritorno alla normalità. Dobbiamo ritornare a offrire servizi rapidi anche a pazienti non covid. L'auspicio del presidente è prima di tutto che dopo la prossima settimana la Campania torni nella zona di rischio epidemiologico bianca, che è quella più moderata, e che soprattutto per la fine di febbraio possano essere riaperti i reparti ospedalieri che erano stati chiusi per permettere la cura di pazienti covid. Stanno migliorando i dati sui ricoveri e l'auspicio è di riuscire a riaprire le attività ordinarie per non richiudere più. Registrati intanto 5.510 nuovi contagiati nell'ultimo bollettino sui 42.468 test effettuati. 14 i deceduti, 63 posti di terapia intensiva occupati, 1.038 posti di degenza occupati. Numeri che potrebbero anche calare nei prossimi giorni e portare forse al ritorno della Campania in zona bianca. Vi rinnovo l'appello ad accompagnarci in queste ultime settimane, ci auguriamo, in quest'ultima coda di epidemia covid. Nessun rilassamento, ma credo abbiamo il diritto anche di cominciare a respirare. Un po' di pazienza per le mascherine, un piccolo sacrificio che ci aiuterà a uscire definitivamente dall'emergenza. E secondo l'ultimo aggiornamento diramato dal Dipartimento di Prevenzione Unità Epidemiologica e dall'Unità di Crisi della Regione Campania su Cava dei Tirreni, i soggetti attualmente positivi al covid a Cava risultano essere 1.606, quindi 141 unità in meno rispetto al precedente aggiornamento risalente a martedì scorso. I nuovi guariti sono 258 e i deceduti cavesi per covid aumentano a 60. Restiamo a Cava dei Tirreni, convocata dalla Commissione regionale una riunione relativa alla quarta annualità del piano di zona commissariato per l'anno 2019. Questa mattina si è svolto l'incontro con i rappresentanti dei comuni coinvolti. L'incontro stamattina è stato convocato dalla Commissione, perché come sappiamo il piano di zona è stato commissariato per l'anno 2019, quindi la Commissione ci ha convocato stamattina qui a tutti i sindaci facenti parte del piano per trovare un punto della situazione. Devo dire che la Commissione è stata veramente molto aperta, si è potuto ragionare molto tranquillamente, si è visto che vogliono venirci incontro affinché questo problema venga risolto e quindi adesso stiamo un attimo affrontando ancora in corso l'incontro come risolvere questa problematica che ci ha portato poi al commissariamento del piano di zona riguardante l'anno 2019. Ci sono le basi per rimettere un po' in asse tutta la questione dei servizi sociali in Costiera Amalfitana nell'ambito territoriale, in realtà Cava Costiera Amalfitana. La nostra intenzione è proprio quella di ripartire da una pianificazione ex novo un po' di quella che è la concertazione in primis politica per poi dare l'esecutività a quella che è il braccio operativo dell'ufficio di piano. Ci auguriamo e ci ospichiamo che le professionalità dell'ufficio di piano, quindi dei servizi, possono essere quantomeno integrati a tempo pieno di modo che possono fare il loro lavoro anche per il PNRR in maniera completa così come in genere è stato fatto dall'ambito territoriale. La sanità, l'ospedale di Cava diventerà un contenitore vuoto e a rimetterci saranno i cittadini. Questa è la denuncia del Comitato Civico Dragonea in una nota stampa divulgata in questi ultimi giorni. L'ospedale di Cava dei Tirreni diventerà un contenitore vuoto e a rimetterci saranno i cittadini. Bisogna incrementare i servizi ed aumentare il personale medico. La sola ristrutturazione non basta. È quanto dichiarano i membri del Comitato Civico di Dragonea che hanno reso noto in un documento a firma del presidente Giorgio De Rosa i dubbi e le perplessità di un ridimensionamento ed uno smantellamento del servizio sanitario territoriale a favore di un sistema privato. Secondo i membri del Comitato, il problema risiede in tutti i presidi del comprensorio da Cava a Castiglione di Ravello, passando anche per le difficoltà delle famiglie addirittura di contattare i medici di base. Questa lettera di denuncia, dichiara il presidente De Rosa, parte da numerose segnalazioni dei cittadini lasciati in balia delle onde anche per una semplice prescrizione medica. L'ospedale di Cava, come già abbiamo detto, sarà un contenitore vuoto se non si programma sin da subito un'implementazione di personale e di mezzi per far fronte ai bisogni di assistenza sanitaria ed un'utenza così numerosa. Abbiamo sottolineato più volte le necessità urgenti di nuovi medici e di infermieri, oltre che primari. A cosa serve un'ambulanza nuova se non c'è un reanimatore oppure una TAC nuova se non c'è il personale adatto che la sappia usare o utilizzare? Quindi questa è la vera richiesta per cui stiamo battagliando da tempo. C'è da rifondare prima la coscienza e l'umanità, ancora prima di costruire edifici nuovi. L'ordinario che è diventato straordinario, così pure oltre Cava, anche a Castiglione, non è in grado di garantire un servizio pubblico degno di essere chiamato tale. Il sistema di sanità in costiere ed intorni è praticamente rivisto e potenziato. L'esempio di Castiglione è proprio un esempio valido perché è un presidio che ha salvato i vidi umani negli anni, un fiore di occhiello, un punto di riferimento per tanti cittadini della costiera. Quindi oltre a Cava, tutto il bacino, tutto il territorio che comprende Cava e Costiera, succube da una politica di oppressione, di soppressione e di riduzione di personale negli anni. La costiera, dietro e Cava ha bisogno di una medicina territoriale efficiente. A questi cittadini l'ospedale vogliamo chiedere se serve? Perché questa è la domanda che ci poniamo. Sono 38 mila cittadini della costiera, oltre quelli di Cava, che hanno bisogno effettivamente di un ospedale efficiente, ma soprattutto dei servizi socioassistenziali che ci siano sempre. I cittadini della costiera sono ormai sfiduciati, disillusi, ma soprattutto arrabbiati nei confronti di un sistema sanitario territoriale che ha come cardine solo praticamente far quadrare i bilanci. A questo poi chiediamo che scendano veramente in campo i nostri amministratori, i sindaci dei 13 comuni della costiera, oltre a quello di Cava, che fanno Cava allo stesso distretto sanitario peraltro, toglietevi la fascia, rappresentate i veri problemi della gente, ponetevi un ordine di priorità delle vostre gente, mettete al primo posto la salute e i bisogni dei cittadini. A cosa servono questi fondi del PNRR se non riusciamo nemmeno a soccorrere un cittadino in tempo con un'ambulanza ed un medico a bordo? Un parcheggio in più? Serve un parcheggio in più? Magari questo dopo. Se manca un programma definito sul presente, figuriamoci quello sul futuro. Troppe discriminazioni, da troppi anni stiamo subendo, è il momento che chi ha responsabilità ne risponda. L'unica vera voce ricordata è quella di noi cittadini, la voce di chi sta in trincia tutti i giorni, che non fa compromessi, che non scende a patti con nessuno, il resto è pura demagogia. La salute pubblica non è un diritto, non è un regalo che ci deve essere concesso da qualcuno. Andiamo avanti con la cronaca. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nocera Inferiore hanno arrestato due fratelli per spaccio. La droga è stata rinvenuta dietro a un battiscopa e in un tubo di scarico. I poliziotti del Commissariato di Nocera Inferiore hanno sottoposto a controllo un pregiudicato del posto classe 95, già gli arresti domiciliari, per reati in materia di stupefacenti. Nello specifico, il controllo presso la sua abitazione ha evidenziato che il giovane aveva tutt'altro che interrotto il suo commercio. Infatti, con l'ausilio del reparto cinofilo antidroga, gli agenti hanno trovato occultate dietro un battiscopa vuoto e bloccato da una molla di ritenzione, varie pietre, successivamente risultate essere sostanza stupefacente del tipo cocaina. Complessivamente 43 grammi circa. All'interno dell'appartamento sono stati poi rinvenuti e posti in sequestro anche un bilancino di precisione, utilizzato per pesare lo stupefacente, bustini in cellofan per confezionare le dosi, 2.235 euro in banconote di vario taglio, quale presunto provento dell'attività di spaccio, e 32 grammi di sostanza da taglio. L'attività di controllo è proseguita in un appartamento della stessa strada, appartenente alla famiglia del arrestato. In questo caso la perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare una stecca di hashish di circa 78 grammi, ancora presente in un tubo di scarico del bagno dell'abitazione, oltre all'altro materiale per il confezionamento in dosi, per cui è stato tratto in arresto anche il fratello 21enne del giovane. Il PM di turno ha disposto al termine dell'attività e degli accertamenti di rito la traduzione del primo presso la casa circondariale di Salerno e del 21enne presso l'abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell'udienza di convalida. Manifestazione a Salerno per ricordare i due studenti morti a causa di incidenti durante lo svolgimento di stage durante l'alternanza scuola-lavoro. Anche a Salerno stamattina per ricordare Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, due studenti morti a causa di incidenti durante lo svolgimento di stage nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, una delegazione di studenti ha partecipato ad un presidio che è stato effettuato in piazza Portanova. Parole dure, quelle utilizzate dagli alunni contro l'alternanza definita uno sfruttamento, ma anche contro una scuola gestita, dicono gli alunni con striscioni e slogan da padroni. Oggi in diversi parti d'Italia gli studenti hanno manifestato per le stesse motivazioni. Siamo scesi in piazza per Lorenzo e Giuseppe, due ragazzi che sono morti durante l'alternanza scuola-lavoro e per le repressioni che hanno ricevuto gli studenti durante la manifestazione del 28 gennaio. In più anche per l'esame di Stato, per la reintroduzione degli iscritti all'esame. Dopo due anni di DAD non è stato fatto niente per noi studenti, non sono stati fatti corsi di potenziamento, corsi di recupero per noi. I motivi principali sono quelli dell'alternanza, che praticamente c'è stato, come sappiamo, la perdita di due ragazzi. Noi chiediamo che l'alternanza sia opzionale, che possiamo decidere di farla, ma soprattutto che sia in sicurezza. Quindi avere la sicurezza che ci meritiamo. Vogliamo anche fare l'alternanza. Il problema è che vogliamo essere sicuri, come ho già detto. Io sono d'accordo con quello che ha detto il mio compagno prima e l'alternanza inoltre credo che sia uno sfruttamento minorile, anche perché molti ragazzi vengono mandati in fabbrica a fare anche più di 90 ore. Noi fortunatamente siamo un liceo, facciamo 90 ore di alternanza in questi tre anni nel triennio, ma molti altri istituti, come gli istituti tecnici, devono fare più di 90 ore in fabbriche a sudare, a lavorare e comunque hanno dei turni molto estenuanti per avere 16, 17, ma anche 18 anni. Ormai dopo due morti, durante l'alternanza, è sempre più chiaro che non è più sostenibile un modello del genere e parlo a grandi livelli, un modello del genere più sostenibile. Non è possibile che due ragazzi eschiano di casa invece di stare a scuola per andare a lavorare e morire, specialmente perché sono obbligati ma soprattutto non sono pagati. Quindi sostanzialmente vanno a morire per far guadagnare qualcuno sostanzialmente e quindi era per questo il motivo. Ma in generale la situazione della scuola è sempre peggiore e sempre più precaria e va sempre peggiorando. Perché non ci sta bene che due ragazzi siano morti durante l'alternanza scuola-lavoro, cioè è inammissibile come cosa. Cosa chiedete? Maggiori diritti che almeno veniamo reintribuiti per questo lavoro, almeno comunque che non muoia gente, perché sicuramente un ragazzo di 16 anni non può morire per andare a lavorare senza neanche essere pagato. Cambiamo argomento. Tre donne coraggio alle quali sarà assegnato il premio Mamma Lucia istituito nel 2007. Domani la cerimonia presso il Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Vediamo chi sarà destinatario del premio. Si tratta dell'avvocato Barbara Pierro, delle giornaliste Laura Silvia Battaglia e Bianca Senatore, quest'ultima di Cava dei Tirreni, alle quali sarà assegnato sabato appunto il premio internazionale Mamma Lucia 2022. Il premio fu istituito con delibera di giunta comunale nel marzo 2007 su iniziativa del consigliere delegato alla pace Antonio Armenante ed è destinato alle donne che si siano particolarmente distinte nella vita sociale come testimoni attive di solidarietà, difesa dei diritti umani, cultura di pace, sul modello della maternità universale di Mamma Lucia che alla fine della Seconda Guerra Mondiale recuperò le salme di centinaia di soldati tedeschi caduti per restituirle alle famiglie. Sport calcio. Dopo la sconfitta patita a Giarre, la Cavese lavora per provare a riscattarsi già da domenica con il Troina. La Cavese si è rimessa subito ad allenarsi ieri e lo farà anche oggi al Simonetta Lamberti. La squadra ha avuto bisogno di analizzare e molto le cose che non hanno funzionato in Sicilia. Mercoledì si è vista infatti una formazione metelliana disposta a fare bene, senza dubbio, ma c'è stata sul campo la riprova che anche una compagine sfidante che sulla carta appare inferiore, se è bene organizzata e lotta, può fare risultato contro i favoriti. La formazione di mister Troise ha trovato delle difficoltà perché i giarresi erano tantissimi nel settore di difesa, quindi le giocate con palla a terra a cui la Cavese aveva abituato ai suoi tifosi, sono state neutralizzate dai siciliani, che a loro volta non hanno prodotto tante palle gol, però sono stati cinici nello sfruttare ciò che hanno avuto. Il risultato di 0-0 sarebbe stato poco per le ambizioni di classifica dei biancoblu, ma certamente sarebbe stato lo specchio fedele di quanto si era visto fino al gol di Baglione. Sotto nel punteggio i metelliani non sono riusciti ad avere la stessa felice reazione messa in campo, ad esempio a Castellabate, perché hanno trovato più spazi bloccati in area di rigore avversaria, non rimanevano che le palle alte, non sono stati rischiati neanche i tiri da lontano, una soluzione che si poteva anche provare. Il campionato non è comunque finito, la Cavese resta a meno 5 dal Gelbison Capolista e mancano 14 partite, quindi 42 punti in palio e c'è subito l'occasione di rifarsi a Cavale Tirreni dopo domani, quando arriverà il Troina, una squadra che occupa il diciannovesimo posto nel girone I del campionato di Serie D. Ci vorrà lo stesso temperamento visto contro la San Cataldese. Troise dovrebbe riuscire a recuperare anche Banegas, oltre a ritrovare Carbonaro che ha scontato la squalifica, ma da parte loro i troinesi avranno un problema non da sottovalutare legato all'assenza del cannoniere Ficarrotta per squalifica. Il giocatore è stato espulso contro il Sant'Agata per fallo di mano volontario, quindi salterà la gara di cava. Intanto la società Aquilotta ha già comunicato i prezzi dei tagliandi per assistere alla sfida di domenica, valevole per la venticinquesima giornata. Accedere alla tribuna centrale costerà 35 euro. Per la tribuna laterale coperta nord-sud occorreranno 15 euro, ridotto 13. Per la tribuna scoperta e i distinti 10 euro, ridotto 8. E per le curve, curva sud e curva nord, il biglietto costa 5 euro. Obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato. Siamo alle bocce, torna domani la Serie A della specialità Raffa. Vittoria in rimonta nell'ultimo turno per l'Accessori Moda Kennedy. Ancora un KO per l'Enrico Millo. Vediamo. Impresa da parte dell'Accessori Moda Kennedy, che al bocciodromo di Piazzolla di Nola sabato scorso, con una bellissima rimonta, ha superato, con il punteggio di 5 a 3, la nova Inox Mosciano nella sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie A delle bocce specialità Raffa. La squadra abruzzese, che a 9 era tra le sue file il campione del mondo Gianluca Formicone, giunta in Campania a punteggio pieno in classifica, aveva chiuso in vantaggio per 3 a 1 il primo turno di gioco, ma poi ha dovuto arrendersi nella seconda parte dell'incontro alla sontuosa prestazione dei padroni di casa, che si sono aggiudicati tutti e quattro i set di coppia, ribaltando il risultato. La terza vittoria su altrettanti match interni, disputati in questo inizio di stagione, ha consentito alla Kennedy di portarsi con 9 punti al quarto posto in classifica, a pari merito con Fontespina e Boville Marino e a 6 punti di distanza dalla capolista Caccialanza di Milano. Siamo orgogliosi del risultato che abbiamo ottenuto, ma il nostro obiettivo resta la salvezza, ha detto il presidente dei napoletani Ferrante. Prosegue invece il momento negativo dell'Enrico Millo di Baronissi, tornata a mani vuote dal difficile impegno sul campo della Boville Marino. La squadra del presidente e tecnico Franco Montuori, sconfitta per 7 a 1, resta ancora ferma a quota 0 e nel prossimo turno, in programma sabato 19, dovrà andare in Sardegna per affrontare la Faris Group Galligel Sestu. La Kennedy invece farà visita alla Civitanovese, appaiata con la Milo in coda alla classifica. Il telegiornale è terminato, ricordiamo a tutti voi che questa edizione del notiziario potrà essere rivista sul nostro sito www.rtcquartarete.it dove potrete visualizzare anche tante altre notizie. Grazie a tutti per la cortese e attenzione, l'informazione ritorna alle prossime edizioni. Buon proseguimento.